Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccomi con un nuovo interattivo per voi. Due varianti, come noterete subito, sembrano uguali, perché sono due bussole. L'avevo già utilizzata una bussola l'altro giorno, purtroppo, dove ho avuto il video con problemi di audio. Io adoro questo oggetto, perché la bussola indica la strada giusta, no? E allora ho pensato, tra l'altro è una bomboniera che mi ha regalato la mia nipotina. Siccome sa che io adoro questo oggetto, proprio le bussole, mi piacciono, me ne ha regalata un'altra. E ho pensato di utilizzarla per voi, per fare un interattivo, perché ho pensato alla direzione della vostra anima. Qual è la direzione giusta? E vedete che ho messo dei cordini, dei fiocchi rossi, il filo rosso, il filo rosso del destino. Qual è la direzione giusta per la tua anima? Sono diversi questi fili, perché uno è un filo di raso rosso e l'altro è un cordino, vedete, rosso di tela. Così potete fare la scelta delle due varianti. Prima variante, questa qua con il raso rosso e questo col cordino di tela. Allora, vediamo qual è la direzione giusta, perché poi la tua anima lo sa già qual è la direzione che deve prendere. Quindi scegli la tua bussola e vediamo il tuo filo rosso del destino dove ti sta portando. Tutti sappiamo la leggenda del filo rosso, o quasi tutti. Chi non la conosce può andarla a cercare. Si dice che questo filo ci leghi alla persona destinata a noi. E questo filo non si può spezzare per nessuna ragione al mondo. Ce l'abbiamo dal momento in cui nasciamo fino alla fine dei nostri giorni. Può ingarbugliarsi, allungarsi. Può succedere tutto a questo filo. Possono allungarsi le distanze, può ingarbugliarsi per delle situazioni, delle strade sbagliate. Ma sempre questo filo, se noi lo seguiamo, ci porterà nel posto giusto, dalla persona giusta che è destinata a noi. Questa era un po' la premessa dell'interattivo che andiamo a fare adesso. Andiamo a vedere la vostra bussola, dove vi sta portando. Qual è la strada giusta che vi porterà appunto al vostro destino. Ok, partiamo con la prima variante. Per te, che hai scelto la prima variante con il fiocco filo rosso, di raso rosso. E vediamo qualcosa. Allora, potremmo fare. Non ho imparato niente perché non sapevo di farlo. Questo, ovviamente questo video, perché io cerco di farli quando ho del tempo. E quindi vediamo subito. La persona che è destinata a te, cosa ti vorrebbe dire? Se già esiste nella tua vita o cosa ti dirà o cosa farà quando ti conoscerà? Vediamo. Avrà subito voglia di vaciarti questa persona quando ti vedrà la prima volta o quando ti rivedrà. E' una persona che si è fatta molto condizionare dagli altri perché aveva o ha delle tossicità. Una persona che, se è del tuo passato, oggi ha capito il tuo valore. Se invece è una persona nuova, posso dirti che subito riuscirà a capire il tuo valore quando ti conoscerà. E' una persona molto sensibile, anche se non sembra per come si comporta. Allora, è una persona che dice che quando ti guarda la metti a disagio. E' una persona che potrebbe avere bisogno di tempo prima di ritornare da te o dichiararsi se è una persona nuova. Questi sono un pochino già degli indizi per te. Vediamo anche con le parole chiave se ci danno ulteriori indizi su quest'anima che è destinata a te, dal filo rosso del destino. Vediamo. Una persona che vuole manifestare qualcosa nei tuoi confronti o manifesterà qualcosa quando ti conoscerà. Ancora mi dicono che ha dei condizionamenti però, per cui siccome è uscito anche là, è una persona che probabilmente o ha delle tossicità sue, dei vizi, delle dipendenze, i condizionamenti possono essere tante cose, i condizionamenti magari verso gli altri o verso delle paure, delle ferite che si porta dentro proprio la sua anima, magari dall'infanzia o anche da altre vite. Condizionamenti anche se magari è una persona impegnata per qualcuno e magari ha dei condizionamenti perché ha delle responsabilità o dei problemi con qualcun altro. Una persona che ti rivelerà quello che prova per te. Una persona che ti manderà un messaggio inaspettato. Quando meno te l'aspetti questa persona si fa viva. Una persona che sentirà subito, quando ti rivedrà per la prima volta, se è nuova questa persona, oppure se ritornerà da te, sentirà che si può fidare di te. Se è una persona del passato potrebbe avere anche, in passato non avere avuto fiducia in te, in quello che provava per te, o forse aver tradito la tua fiducia. Guardate, ve l'ho detto, incontro del destino. Stiamo parlando proprio del filo rosso per voi, è uscita proprio la parola chiave, incontro del destino. Bene, vediamo ancora una, va. Fiamma gemella, rispetto. Ok, è una persona che forse, se l'avete già conosciuta, potrebbe averti mancato di rispetto in passato. Se invece è nuova, è una persona che avrà subito un forte rispetto nei tuoi confronti. Se è del passato che sta tornando, ha capito che tu ti meriti il rispetto, insomma il rispetto che non ti ha dato forse nel passato. Mi è uscita la parola fiamma gemella, per cui anche qui potrebbe essere un legame di anima, fiamma gemella. Vediamo anche con i legami d'anima a questo punto se ci dà qualche altro indizio, perché il filo rosso del destino può essere anche un legame d'anima gemella, piuttosto che carmico, perché tutto quello che ci torna da altre vite anche può essere un legame comunque del filo rosso. Potrebbe essere un'anima compagna per qualcuno, quindi un'anima compagna della stessa famiglia anemica, e una fiamma gemella ancora, me lo ribadiscono, per cui qua potrebbe esserci appunto un legame di fiamma gemella. Vediamo perché vi siete incontrati o perché vi incontrerete con quest'anima, cosa dovete imparare o cosa vi speccherete come ferite, vediamo un po', o cosa vi siete già specchiati. Allora, la dipendenza affettiva, qui ci sarà un rapporto di dipendenza affettiva o c'è stata una dipendenza affettiva. Qua qualcuno si è sentito non apprezzato, non amato, e si imparerà o si impara il perdono con questa persona. Potrebbe anche essere, qui c'è anche l'abbandono, potrebbe essere che per qualcuno di voi questa persona magari arriverà dopo un momento difficile della vostra vita dove voi avete sofferto tanto, magari siete stati rifiutati, non amati da qualcun altro, e vi siete un po' chiusi il cuore. E questa persona arriverà perché voi dovete imparare a perdonare il passato per poter ricominciare a vivere, se è una nuova persona. Invece se è un ritorno, ragazzi e ragazze, vi posso dire che dovete perdonare quello che è successo con quest'anima, perché era qualcosa che dovevate proprio vivere per poter evolvere. Anche il fatto di non sentirsi amati ci insegna a volte ad amarci noi, a imparare il nostro valore. Ecco perché c'era la parola anche rispetto per qualcuno di voi. E anche qualcuno poteva essere abbandonato perché mi era uscito nel fondo mazzo, era stato, magari vi siete sentiti abbandonati anche da questa persona. Adesso vediamo un pochino che tipo di amore c'è stato, se è un ritorno e che ci sarà nel futuro. C'è stato o ci sarà un amore clandestino all'inizio per voi. Qualcuno qui dal ritorno mi parla di un amore bloccato. Un amore passionale e per qualcuno questa persona aveva un amore, cioè avete chiuso questa storia, ok? Anche se c'era ancora tanta passione. Per qualcuno che aspetta un ritorno, qua c'era un amore nascosto per questo motivo che è stato bloccato, anche se aveva tantissima passione questo amore. Sì, per qualcuno qui era proprio un amore fedele di cuore, ma è finito questo amore per la situazione che c'era. I condizionamenti che probabilmente aveva quella persona, se è un ritorno. Per chi invece aspetta un amore nuovo vi posso dire che questa persona potrebbe avere finito un amore e magari ancora trovarsi in una situazione di sistemare proprio per dei suoi condizionamenti delle cose della sua vita e magari non subito vi porterà davanti a tutti, vuole prima conoscervi, però sentirà subito una forte passione, un amore palpitante per voi, un amore fedele di cuore. All'inizio per qualcuno potrebbe essere stato un amore anche un po' fuggiasco. Guardate ancora, mi è volato l'amore clandestino. La maggior parte di voi qui è un amore del passato, un amore che siete stati, che eravate probabilmente tre energie qua. Vediamo le emozioni per voi. Allora, se è una persona del passato vi posso dire che in questo momento ha frustrazione ma anche eccitazione all'idea di rivedervi. Questa persona si è sorpresa a provare delle emozioni forti per voi. È molto interessata a voi. Se è una persona nuova vi posso dire ragazzi e ragazze che è una persona interessata, una persona che quando vi vedrà sarà sorpresa da quello che gli scatenate dentro, dall'eccitazione e dall'agitazione proprio che gli scatenate dentro. Quasi a sentirsi frustrato per queste emozioni così forti che non si aspetta. È un amore che verrà o che è stato nel passato idealizzato. Quindi se è una persona del tuo passato posso dirti che ti ha idealizzato questa persona al di là di tutte le complicanze che ci sono state e complicazioni che magari ci sono ancora adesso visto i suoi condizionamenti, sei una persona nuova, è una persona che quando ti incontrerà vedrà in te qualcosa di unico, qualcosa di ideale mi viene da dire. Guardate ancora, passione e alchimia me lo ribadiscono. Questa persona proverà una fortissima passione quando ti rivedrà o quando ti vedrà. Adesso vediamo qualche canzoncina per voi che potrebbe rappresentare questo incontro. Se è una persona del passato potrebbe avere già un senso questa canzone per te e per questa persona. Se è una persona nuova potrebbe avere un senso perché magari contiene degli indizi per scoprire che tipo di persona è, chi è. Vediamo un po'. Tenendomi di Max Pezzali, Amore impossibile detiro Mancino, Io camminerò di Tozzi, Il coraggio di andare di Laura Pausini, qua potrebbe essere qualcuno che sta chiudendo voi o un'altra persona una situazione. La prima cosa bella di Malika, ancora una, Buongiorno bell'anima di Biagio Antonacci. Ok, Buongiorno bell'anima di Biagio Antonacci. Queste sono le canzoni che potrebbero rappresentare già la persona, se c'è una persona del tuo passato o eventualmente darti un indizio su quella persona nuova che devi ancora incontrare. vediamo ancora cosa ci vogliono dire gli angeli su questo incontro del destino per te. Allora, fai uno sforzo, per il grande amore vale compiere passi importanti. Dicono che ci sarà del tempo per stare da soli, per stare insieme. Per qualcuno addirittura c'è una riconciliazione se è una persona del passato. Se è una persona nuova, questa riconciliazione mi fa pensare che è una persona del tuo passato rimoto, visto che abbiamo il filo del destino, che viene da un'altra vita con cui devi riconciliarti per quello che magari in quell'altra vita non siete riusciti a fare. Quindi è una riconciliazione d'anima. Allora, qua per qualcuno è una persona del passato con cui siete in separazione. Tempo divino. Dicono che il sincronismo divino è l'opera nella tua vita amorosa, proprio per questa relazione. Se è una relazione che tu già hai vissuto in questa vita, dicono siete in separazione, ci sarà la riconciliazione perché questo è un grande amore. Vale la pena anche sforzarsi di accettare l'altra persona con tutto il suo pacchetto, difetti compresi. Se è una persona che viene da un'altra vita ma non vi siete ancora incontrati, è perché questa separazione dura da quell'altra vita e ci sarà questa riconciliazione, questa riunione tra di voi. Potrebbe indossare maschere questa persona, non rivelare subito i suoi sentimenti o non averteli rivelati anche in passato, se già vi conoscete in questa vita qui. Vediamo un po'. Conoscersi, se svelate all'altro il vostro sepio nascosto, rafforzerete il vostro legame. Ce lo stanno dicendo. Le maschere, non bisogna avere maschere quando soprattutto parliamo con la nostra anima, perché noi sappiamo che l'altro siamo noi, no? Se parliamo proprio di rapporto di fiamme. Dobbiamo imparare a lasciare andare le maschere, a lasciare andare i condizionamenti, a essere noi, nella nostra autenticità, perché l'altro ci ama così come siamo. Anzi, a volte noi ci autosabotiamo proprio per la paura di far vedere chi siamo. Ok, quindi vediamo un po' ancora questo legame, questo legame, questo filo rosso del destino, questa bussola. Dove sta portando i ragazzi e le ragazze che hanno scelto la prima variante? Dove ti sta portando la tua bussola? Questo filo rosso del destino. Vediamo un po'. Shock. Qualcosa di improvviso che potrà succedere tra voi, mi viene da dire. Allora, una persona, voi potreste essere, se è una persona del passato, aver sofferto tanto per questa persona. Per questa persona potrebbe aver fatto qualcosa all'improvviso che vi ha veramente destabilizzato. Sì, guardate, ci può essere stata, e l'abbiamo visto qua, amore clandestino, c'era una terza energia in questo gruppo. Parliamo dell'accezione di chi ha un legame con un'anima che già conosce su questo piano di questa vita. Sì, questa persona è scappata improvvisamente, c'era qualcun altro e tu hai sofferto tanto. E tu hai sofferto tanto perché questa era la tua anima o fiamma gemella. Ma c'era una terza energia, un partner karmico qui, eh. Guardate. Cioè, li abbiamo tirati fuori tutti. Su un mazzo del genere, tre carte, tutte. Quindi qui ci sono animi, fiamme gemelle e partner karmici. Qualcosa che è successo all'improvviso e ha portato quest'anima a scappare da te. Se parliamo di un'anima che già conosci e con cui hai già avuto un'interazione in questa vita. Per chi invece quest'anima non la conosce e la deve incontrare, devi incontrare ancora il tuo filo rosso del destino, mi stanno dicendo che tu hai sofferto tanto per una relazione karmica che ti ha veramente distrutto. Sei stata scioccata quasi, scioccato da quello che hai vissuto. E sei scappata. Forse per qualcuno addirittura l'avete già conosciuta, quest'altra persona, ma siete scappati da questa relazione, come prima accezione, sempre che è una situazione nuova. Oppure, questo scappare vogliamo specificare, sì. Sì, mi viene da dire che probabilmente qualcuno di voi non è ancora in apertura verso quest'anima. Quando quest'anima si avvicinerà a te, tu tenderai a diventare il runner della situazione, a scappare. Perché? Perché hai sofferto. Ma quest'anima sta dicendo che è un'anima che ti guarderà con amore, dolcezza, compassione. Sentirà il tuo dolore perché l'anima di questa persona che arriverà a te ha il cuore fedele a te. Sempre per chi invece sta aspettando un nuovo amore. Voglio capire una cosa. Perché abbiamo visto, per chi vive già una situazione, ok, il nuovo amore che arriverà è la tua anima gemella. E ti porterà il sole, la luce, la gioia. Terrà l'inizio dei sentimenti nascosti, non si rivelerà subito a te. Potrebbe avere anche dei comportamenti infantili questa persona. Non parlare subito. Vediamo ancora. Però ci stanno dicendo che c'è un prossimo livello relazione divina. Potresti vedere 22-22 molto spesso, quando tu sarai vicina a incontrare quest'anima. E per chi invece parliamo di una relazione che già state aspettando per dire il ritorno della vostra metà, del vostro filo rosso, posso dirti che questa persona ha avuto dei comportamenti infantili ma sta facendo chiarezza, ha fatto chiarezza, ha nascosto i suoi sentimenti anche a te, sapendo che tu adesso lo sente, che tu sei la sua anima gemella, l'ha capito. E vorrà abbandonare questi comportamenti infantili perché vorrà avere una relazione con te. Perché sente che tu sei la sua metà d'anima. porterà un equilibrio e abbondanza a questa storia. Ma dopo aver purificato le sue energie, mi viene da dire. Guardate. Capire il proprio valore e la divina femminile. Tu hai capito il tuo valore e questa persona lo inizia a capire, a sentire anche lei a livello energetico che tu hai avuto questo switch. Questo vale per chi sta aspettando questo famoso ritorno. Sta tornando nella tua vita pronto a rivelarti i suoi sentimenti nascosti e a mettere, ha capito, ha fatto chiarezza che si è comportata in maniera infantile questa persona e adesso vuole sistemare le cose. Sta finendo, si sta purificando le sue energie per venire da te e riportare un equilibrio e abbondanza nel vostro amore. Perché sa che siete destinati a stare insieme e che tu sei la sua divina femminile. Allora, queste erano le due accezioni per chi aspetta la persona nuova che poi tanto nuova non è perché arriva dal vostro passato di altre vite e per chi invece aspetta un ritorno di qualcuno che ha già incontrato in questa vita. Oh wow, mi è volata questa evoluzione spirituale. Stavo chiedendo appunto che energia ha questa persona verso di te. Vediamo. Aspettate, mischiamo bene. Eh, ma mi fate bene. Vabbè, qua c'è il lavoro, qua potrebbe essere per qualcuno importante il lavoro di questa persona. Forse, o magari vi conoscete sul lavoro, vi siete visti sul lavoro. Allora, vediamo un po' questa energia di quest'anima che sta per entrare nella tua vita dove tu stai dando, stai manifestando questo incontro grazie al filo rosso che ti sta portando con la tua bussola verso il tuo destino, eh. Vediamo un po'. Verso il tuo destino, mi viene da dire. Sì, l'evoluzione spirituale. Qua c'è l'attesa del successo di questa relazione. Ci sarà tanta passione tra voi. Per qualcuno... Guardate, mi è volata questa sulle gambe, l'osservazione. Per qualcuno questa persona già ti sta osservando, che sia nuova o che sia del tuo passato, eh. Ti sta già osservando. Questa persona potrebbe prendere una decisione, potrebbe rivelarti dei segreti, ma ci vuole ancora un po' di pazienza. Ancora mi ribadiscono anche con questo mazzo che qui c'è un'anima gemella, un legame d'anima, eh. Allora, se una persona del tuo passato sta prendendo una decisione in merito alla vostra situazione, tu ancora non conosci tutto, ci sono delle cose che non sai, dei segreti, qualcosa che ti verrà rivelato, ma ci vuole ancora un po' di pazienza. Era uscito anche il tempo divino, mi pare, con le carte degli angeli. Questa persona ti osserva, sta facendo il suo percorso, sta facendo la sua evoluzione spirituale, sente tantissima passione verso di te. Se è un'anima nuova, invece, ti posso dire che potrebbe averti già notato, sente già un'attrazione, un qualcosa che la spinge verso di te, perché tu sei l'incontro che lo porterà o la porterà ad avere anche lei, la sua evoluzione spirituale. Questa persona potrebbe vivere in questo momento un momento importante di decisioni, potrebbe scoprire, questa persona ha dei segreti, qualcosa che non conosce sulla sua situazione, che non è dipendente da te, se è una persona nuova. e la pazienza di aspettare, sì, allora questa persona nuova, se parliamo del nuovo, questa persona potrebbe avere avuto un rapporto un po' conflittuale con qualcun altro, però è come se il tempo la sta portando verso anche lei al suo destino, a questa anima gemella che è in attesa, in questo caso potresti essere tu anche inconsapevolmente, di incontrarla. Questo vale per chi sta aspettando un nuovo amore, visto che me l'avete chiesto. Va bene, vediamo, faccio giusto così. Guardate, sei di coppe, le memorie e il desiderio. Questo è qualcosa di destinato, me lo stanno ribadendo, perché il sei di coppe è la carta proprio delle anime o fiamme gemelle, la carta del passato, la carta delle vite passate, dei ricordi dell'amore e il desiderio. Cosa desidera davvero la tua anima? Questo incontro, che sia una persona che tu già conosci e lo sai, perché già l'hai riconosciuta quando vi siete visti la prima volta, guardandola negli occhi che era qualcosa di unico per te e sia che sia una persona nuova che devi incontrare. Bellissimo. Dicono, lascia stare, lascia andare il bisogno di controllo e chiudi quello che devi chiudere. Non avere fretta e apri il tuo cuore. Apri il tuo cuore. hai delle indecisioni in questo momento, anima. Sei un po' forse ancora segnata per qualcosa che è successo, mi viene da dire. Allora, tu ricevi messaggi tramite i sogni. Se è una persona che già conosci, potresti sognarla. Se non la conosci, potresti averla già incontrata nei sogni. arriverà una comunicazione per te. Guardate, se è una persona nuova qualcuno già ha la curiosità di conoscerti e di parlarti. Se è una persona del tuo passato ti posso dire che ancora questa persona ti sta osservando e vuole parlarti. Anche questa persona comunque ti sta sognando. Sì, anche questa persona ti sta sognando. Qualcosa succederà all'improvviso qua. Guardate, mamma mia, ragazzi, qualcosa succederà all'improvviso l'incontro con la sua anima gemella o con la tua anima gemella. Qua è uno specchiarsi proprio di riconoscimento. Vi riconoscerete. Se è una persona che stai aspettando il ritorno ti posso dire che sta arrivando questo incontro e sarà qualcosa di improvviso. Qualcosa improvviso che non ti aspetti. E questa persona arriva o comunica con te, ti manda un messaggio o si fa proprio vedere, non lo so. Potrebbe essere anche un sogno che anticipa questo incontro. E per chi invece aspetta un grande amore vi posso dire che qua sta arrivando e tu non te lo aspetti neanche. Sarai così, folgorata, folgorato da questo incontro magico. Ok, adesso andiamo a vedere ancora con gli oracoli questo amore. Questo amore. Dateci qualche informazione su questo amore. Questa energia. Cosa succederà tra questa energia e la ragazza o il ragazzo che stanno ascoltando. Allora, qua voi vi sentite molto soli. Beh, se state aspettando il ritorno voi vi sentite abbandonati. E anche l'altra anima. Ma c'è una rigenerazione, una purificazione, una rinascita per voi. Guardate, tra due mondi sia voi che l'altra persona state vivendo questa fase. Senso dell'abbandono, morte, trasformazione e vivere tra due mondi. Voi dovete passare da un mondo grigio a un mondo colori praticamente. Fare il vostro salto della fede anche e anche l'altra anima. Se è un'anima che voi state aspettando vi posso dire vediamo dove porta. Guardate dove porta questo salto che mi è venuto proprio da dire che questo è un salto a essere pronti. Questo dolore che avete vissuto e questa trasformazione sia voi che l'altra anima vi ha fatto vivere in questa fase siete nella fase dei due mondi tra il passato e quello che invece sarà il vostro futuro. Il vostro futuro vi porta a essere pronti per qualcuno alla pace. Se c'è stata una discussione se è una persona che state aspettando il ritorno se è una persona nuova come te ha sofferto tanto è cambiata questa persona e ha fatto il suo salto abbiamo visto l'evoluzione spirituale e adesso è pronta ad avere questa rinascita vedete l'uovo si schiuderà questo uovo e ci sarà una rinascita di questa persona che la porterà a essere pronta per l'incontro con te che sei il suo filo rosso. Se invece è la persona che stai aspettando del tuo passato sì la riconciliazione la pace si schiuderà quest'uovo e finalmente potrete raggiungere la vostra unione vediamo ancora una ne voglio benissimo anime gemelle me lo dicono anche con questo mazzo e le parche che è proprio la carta del destino è destino che queste due anime stiano insieme ripulire il passato però vedete la rigenerazione ripulire il passato tra due mondi voi siete in questa fase lo in la profondità l'emotività non è una carta di movimento tra due mondi e questo è proprio quando c'è questa fase di passaggio mi viene da dire per arrivare a cosa al tesoro nella profondità nostra noi scopriamo chi siamo e poi ovviamente rinasciamo nuova vita e siamo pronti ad incontrare quello che è il nostro destino e andare e spingersi al limite benissimo bello mi piace adesso invece vediamo un po' nel 3D cosa accadrà tra queste due anime voglia di vedersi wow allora se è una persona del tuo passato ti posso dire che hai in mente un piano per vederti perché ti vuole vedere se è una persona nuova sta cercando di capire come fare ad avere un incontro con te ok allora vediamo ancora vediamo ancora amore sincero e puro qua eh qui c'è un amore sincero e puro questa persona se è del tuo passato o se è una persona nuova per stare con te dovrà comunque scendere a compromessi con se stessa mi viene da dire ma questo è un vero amore un amore sincero e puro guardate sì con questa persona raggiungerete la stabilità questa persona potrebbe stare in questo momento in un'altra situazione un rapporto di convenienza o una zona comfort potrebbe essere una persona che ha fatto tanti errori e adesso sta iniziando a capire tutti gli errori che ha fatto mi viene da dire sia con te se già la conosci o forse proprio errori della sua vita poi vediamo anche con questo vi sto facendo un po' così gli oracoli poi dopo guardiamo quei tarocchi in che fase siete voi e quell'altra persona equilibrio nuovo inizio pulizie quindi ancora ci ribadiscono che bisogna ripulire da quello che non va più bene da quello che bisogna lasciare andare per avere un nuovo inizio bisogna fare queste pulizie siete protetti questa relazione questo amore che sta così in attesa di esplodere è protetto dal cielo perché è voluto dal cielo fondamentalmente questo amore è voluto dal destino è voluto dal cielo voi siete destinati guardate opportunità che appassiona con chi questo rapporto resiste allora questa carta posso dirvi che se è una persona del vostro passato questa dimostra che non si può dividere queste queste due queste due figure vedete non si possono dividere queste due anime perché in fondo sono una stessa anima sono troppo legate sono unite dal filo rosso del destino se è un'anima nuova cioè nuova che poi non è nuova ma che arriva da qualche altra vita ma in realtà non vi siete ancora incontrati in questa vi posso dire che appena vi vedrà o se già vi ha visto sentirà una passione un fuoco dentro e sentirà che c'è qualcosa qualcosa che la lega a voi c'è qualcosa che la spingerà a creare un'opportunità con voi eh si vediamo un po' segreti qualcosa qualcosa verrà alla luce se è una persona del tuo passato tu ancora non conosci delle cose di questa persona ma verrà presto alla luce qualcosa questo segreto e si manifesterà questa persona a te questi segreti se invece è una persona nuova è perché magari già l'hai conosciuta ma non si è ancora rivelata ma lo farà manifesterà sempre a te tu stai entrando sei entrata nel tuo pieno potere questa cosa quella persona quell'anima lo sente sente la tua energia che per chi è donna posso dire sei l'imperatrice qui senti il tuo potere se sei uomo girala mi raccomando vediamo un po' ancora una ecco il cambiamento ci sarà un cambiamento che vi trasformerà vi si qua vedete siete diventate state diventando delle splendide farfalle se è la persona del vostro passato anche questa persona sta avendo un grande cambiamento ecco anche il segreto qualcosa vorrà rivelarvi su quello che ha capito forse quest'anima se è una persona nuova vi posso dire che arriverà da voi cambiata anche lei perché la sua vita il suo percorso l'ha portata ad avere una trasformazione e adesso è pronta ad incontrarvi guardate eventi soprannaturali è destino qua è proprio destino me lo stanno dicendo che voi vi incontriate ancora segni e sincronicità sì mi stanno dicendo proprio che questo incontro deve avvenire se è già del vostro passato questa persona sapete già che sta venendo ok perché lo state già aspettando lo sentite voi è questo questo legame vediamo un po' con i tarocchi questi qua che mi piacciono tanto l'energia di questa persona verso di te sei una persona del tuo passato vediamo che energia sei di pentacoli portare l'equilibrio nella vostra situazione nello smazzo cosa abbiamo guardate sei di coppe e temperanza nel fondo mazzo che energia ha questa persona vuole portare l'equilibrio in questo vostro rapporto vuole darti quello che non ti ha mai dato perché perché ha capito che sei la sua anima gemella sei di coppe perché ricorda i momenti felici e sereni che ha passato con te perché sente la connessione con te e ti vuole ma qua abbiamo la temperanza qual è l'energia l'energia di questa persona verso di te del tuo filo rosso che tu già sai perché qua parliamo di qualcuno del passato ho detto prima di tirar giù le carte questa anima è un'anima che sta guarendo le sue ferite sta guarendo la sua anima la vostra la vostra metà qui la guarigione e il voler portare un equilibrio a voi a questa relazione a volerti dare quello che non ti ha mai dato ti desidera sente la connessione d'anima non può fare a meno di te guardate è come un matto farà quando meno ve lo aspettate come l'attore con lo shock che abbiamo visto prima qualcosa di improvviso fa e viene da te viene da te bene questa è la sua energia ma bisogna vedere cosa farà davvero vediamo un po' ok l'energia è questa ok quello che vorrebbe quello che sente dentro la sua anima dentro il suo cuore ma cosa farà davvero mi è volato il cavaliere di bastoni e in fondo mazzo ho il mondo allora questa anima che già tu conosci vuole venire da te e la porta proprio la passione che ha per te per qualcuno potrebbe anche venire sul posto di lavoro perché il cavaliere di bastoni mi viene anche in mente il lavoro per qualcuno di voi per qualcuno potrebbe essere che ci lavori insieme per qualcuno proprio la passione la passione che sente che è fortissima il mondo potrebbe dover chiudere un ciclo prima questa persona prima di arrivare da te un ciclo con qualcun altro abbiamo visto che potrebbe esserci una terza energia karmica però è anche qualcosa che mi rappresenta questa questa carta mi fa pensare anche che per quest'anima tu sei qualcosa che la completa e ora lo sa lo sente vediamo un po' sullo smazzo guardate carro vuole venire da voi perché per me è così in questo caso il mondo più che la chiusura di un ciclo mi fa venire proprio la sensazione che questa persona sente che tu la completi e ti vuole e vuole te vuole venire da te guardate due di coppe vuole venire da te perché ha capito che tu sei l'amore della sua vita prova per te amore incondizionato quest'anima amore incondizionato l'amore vero il vero amore quello che si incontra una volta sola è ancora un pochino ferma perché perché sta valutando sta guardando da un'altra prospettiva la situazione ma viene cioè allora il carro vuole venire da te abbiamo visto che c'è la guarigione in atto per cui questa guarigione la porterà a prendere la sua decisione perché perché ti ama perché ti desidera perché tu sei il suo mondo guardate ancora il 6 di coppe un'altra volta è il mondo è il diavolo ok allora sì allora questa persona ti ama sta guardando da un'altra prospettiva tutta la situazione tutto quello che è successo come se ha fatto uno switch anche questa persona forse ha chiuso un ciclo della sua vita mi viene anche da dire che appunto però sente anche la completezza con te i ricordi la connessione ha tanta passione verso di te però il diavolo potrebbero essere anche delle sottotità scusate le tossicità che ha l'anima di questa persona ancora da guarire perché abbiamo visto che sta facendo una guarigione vediamo un po' infatti 5 di spade i suoi conflitti sono e il sole fare chiarezza ritrovare la felicità ma prima deve superare i suoi conflitti per poi 8 di bastoni comunicare con te e ti verrà a rivelare probabilmente anche tutto quello che gli è successo che ancora tu non sai vediamo invece per chi deve incontrare una persona nuova adesso abbiamo visto prima per voi il ritorno erano questi qui parlavo di persone che devono tornare adesso voglio dire per chi incontrerà questa persona nuova come succederà cosa succederà perché opla mi sono volate tutte ok guardate la sacerdotessa la ruota della fortuna il 10 di spade e qui in fondo mazzo ho la forza nello smazzo vediamo il 6 di spade allora per te che devi conoscere una persona nuova che ancora non la conosci che è la persona destinata a te del tuo filo rosso questa bussola che ti sta portando a incontrarti con quest'anima sentirete subito una forte connessione questa persona sentirà una passione e anche un legame subito spirituale con te passione e alchimia una passione forte un'alchimia ma anche un legame spirituale tu sei una persona intuitiva questa persona sentirà che sei un po' magica un po' anche streghetta o stregone ci sarà un cambio un cambiamento il vostro incontro creerà cosa? la chiusura di un ciclo di dolore per entrambi mi viene da dire e verrà il momento di andare verso qualcosa di più tranquillo per entrambi ci vorrà però un po' di coraggio per questo incontro abbiamo visto che tu tenderai a scappare questa persona sarà una persona concreta di cui ci si può fidare un re di pentacoli un'anima che protegge anche chi ama e tu sarai la sua imperatrice per questa persona quando ti vedrà ti vedrà così il suo sole l'imperatrice guardate ci sarà una grande trasformazione nella tua vita e nella vita di questa persona grazie al vostro incontro perché questa persona per te sarà l'amore il re di coppe e avrete l'unione familiare l'unione casa quando vi vedrete ci sarà un riconoscimento d'anima vedete e qui ognuno sentirà nell'altro guardandosi negli occhi di essere arrivato a casa di essere tornato a casa ok questo varia anche per chi ovviamente sta aspettando un ritorno io ho provato a fare le due eccezioni perché dovevo fare così ok adesso vediamo no diciamo oggi no dai vediamo solo sto improvvisando quindi ah ecco i prossimi eventi se mi danno qualche indizio con i prossimi eventi per i ragazzi e le ragazze che sono in ascolto l'anima destinata a te dove la bussola che è dentro di te ti sta portando no al tuo legame di filo rosso vediamo un po' mi sono volate troppe sulle gambe quest'anima cosa succederà quando vi incontrerete o perché vi incontrerete magari dovete fare qualcosa perché questi sono i prossimi eventi e vi incontrerete tipo faccio un viaggio incontro questa persona vado che ne so vado ad acquistare una casa e lo incontro vado a lavorare e lo incontro cioè qualsiasi cosa vediamo un po' cosa mi vogliono dire oppure se è una persona del tuo passato allora per questo incontro ci sarà l'aiuto di qualcuno qua potrebbe essere l'aiuto del cielo proprio perché con le sincronicità vi troverete uno in fronte all'altro perché ci pensano i vostri angeli i vostri ragazzi come li chiamo io oppure qualcuno magari qualche amico ve la presenta questa persona oppure verrà proprio a trovarti se è una persona del tuo passato potrebbe essere che questa persona si fa viva guardate il viaggio lo spostamento potrebbe anche essere che questa persona del tuo passato fa uno spostamento per venire verso di te o può essere che voi fate un viaggio e vi incontrate con questa persona che ancora in questa vita non avete conosciuto però per qualcuno qui mi viene che c'è proprio un viaggio magari quella persona invece del tuo passato non abita vicina e deve fare un viaggio per arrivare da te e lo farà risposta positiva a quello che tu stai pensando dichiarazione d'amore allora se tu stai pensando che è la persona del tuo passato stanno dicendo sì quello stai pensando è giusto se stai pensando ah io voglio un nuovo amore e magari lo incontro perché devo andare a farmi una vacanza là sì ti stanno dicendo sì quello che hai pensato danno la risposta positiva ci sarà una dichiarazione d'amore un qualcuno che si rivela a te dicendo che ovviamente se ti conosce quel giornalino ti dirà oh ciao piacere ti amo ma sentirà subito questo amore questa sensazione di casa per qualcuno ancora dicono scoprirai qualcosa su questa persona può essere che per qualcuno di voi siamo tanti ci sono tante accezioni questa persona tu già la conosci ma ancora non si è rivelata a te si rivelerà se è una persona che invece non hai ancora mai visto potresti incontrarla anche in un viaggio o in uno spostamento che farai magari che ne so vai a fare un corso e incontri quest'anima se invece è una persona del tuo passato ti posso dire che potrebbe venirti a trovare anche se abita lontano partire e farti questa sorpresa per qualcuno potrebbe essere aiutata questa persona per riavvicinarsi o avvicinarsi a te però in entrambi i casi in tutte le varie accezioni qua c'è qualcosa che verrà alla luce che voi non avete idea e sul fondo mazzo mi è caduto l'occhio adesso mi dicono gravidanza potresti ricevere notizie riguardo a una gravidanza potresti essere tu o qualcuno che conosci per cui questo potrebbe essere un altro motivo un'altra cosa che ti porterà verso questa persona magari se hai l'età giusta per avere una gravidanza con questa persona avrai anche un figlio se non hai l'età per la gravidanza la gravidanza può rappresentare anche una nascita o una rinascita di una situazione ok va bene allora io per la prima variante direi che ho detto abbastanza vi do qualche letterina qualche segno zodiacale e qualche numero per vedere se vi arrivano ulteriori indizi allora qui abbiamo il cancro l'ariete la bilancia troppi gemelli pesci vergine e scorpione questi qui erano i segni adesso vediamo i numerini potrebbero essere i numeri delle vostre date di nascita quelli potrebbero essere i segni quando li tiro fuori possono essere segni o ascendenti ovviamente vostri o della persona del vostro cuore queste le date di nascita vostre o della persona del vostro cuore o quella che andrete a incontrare oppure potrebbe rappresentare una data importante che c'è già stata per chi magari l'ha già vissuta una relazione o una nuova data quella magari in cui vi incontrerete ok 7 31 19 9 5 20 copra 10 27 ancora 2 1 e 6 7 31 19 9 1 5 20 10 27 6 questi sono i numerini ok togliamo un attimo queste tiriamo fuori qualche letterina per voi ok allora E T M D G L B N O Y ci facciamo ancora una questa e la U ok queste sono le letterine ovviamente se non vi ritrovate nelle letterine che possono essere le vostre iniziali o della persona a cui state pensando o che dovrete incontrare potrebbe essere anche il nome di una città ok però dovete voi vedere il senso eventualmente non è importante perché poi ovviamente è il messaggio che vi deve risuonare ok al di là delle letterine numerini e segni che ovviamente li metto come quando utilizzo i charms perché so che tanti mi chiedono di farlo e voglio accontentare tutti ecco una cosa che non avevo fatto mi pare l'energia di questa persona verso di te non l'ho fatta vero? filo rosso di raso prima variante vediamo un po' questa persona quando arriverà a te che energia avrà di gentilezza aprirà il suo cuore a te questa persona e lo farà con la consapevolezza perché in un momento della sua evoluzione abbiamo visto che era caduta la carta dell'evoluzione spirituale e della guarigione guardate risuonano guarigione evoluzione spirituale e apertura di cuore finalmente se è un ritorno di quest'anima che tu stai aspettando e se è un nuovo amore entrambi tu e quest'anima avete guarito magari chiudendo dei cicli carmici con altre persone le vostre ferite siete pronti ad aprire il cuore a questo amore che deve arrivare per voi guardate abbondanza arriverà per voi e l'azione bellissimo devo dire complimenti a chi ha scelto la prima variante adesso saluto se vi è piaciuto questo interattivo ragazzi mettetemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale così mi aiutate a crescere grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che già mi seguono mi scrivono sempre io ne approfitto sempre per fare saluti e se sei invece arrivata di qua per caso anima io penso che il caso non esista probabilmente anche per te doveva esserci un messaggino oggi un bacione a tutti e passo ai ragazzi della seconda variante allora a voi ragazzi e ragazze che avete scelto la bussola con il filo vedete questo filo qua di tela scusate allora vediamo anche per voi la vostra bussola dove sta andando dove vi sta portando la vostra anima alla sua bussola che l'accompagna nel cammino che state affrontando della vostra vita verso ciò che è destino che è destinato per voi verso il filo rosso il vostro il vostro filo rosso il vostro destino chi è quest'anima che è destinata a te seconda variante potrebbe essere una persona che già conosci magari stai già aspettando il suo ritorno perché vi siete visti vi siete riconosciuti al primo sguardo quindi avete riconosciuto in quella persona un senso di familiarità un senso proprio di essere tornati a casa si dice così primo sguardo lo sguardo l'occhio lo sguardo ci fa intravedere un po' l'anima dell'altro ti sei sentita magari subito connessa e quello è perché magari già l'hai conosciuta quest'anima per cui stai aspettando il suo ritorno o forse stai aspettando un nuovo amore magari questo filo rosso del destino in realtà non c'è ancora in questa tua vita terrena magari siccome ovviamente è qualcosa che succede che torna da qualche altra vita ma magari non vi siete ancora incontrati e conosciuti su questo piano terreno su questa esistenza in questa esistenza vediamo un po' anche per te seconda variante col filo rosso di tela dove ti sta portando la tua anima con la tua bussola chi è il filo rosso del destino chi è legato a te vediamo anche per te partiamo da da cosa partiamo non mi ricordo più partiamo come ho fatto con i ragazzi della prima vado un po' abbraccio perché non mi ricordo come ho fatto la prima variante sono andata un po' a sensazione per prendere le carte lo farò anche per voi ok vediamo un pochino allora cosa ti vorrà dire scusa cosa ti vorrebbe dire cosa ti dirà quando tornerà da te se è un ritorno la persona del tuo cuore o cosa ti dirà questa nuova persona quando ti conoscerà cosa penserà di te ok vediamo un po' cosa vuole dire quest'anima sono una persona insicura e confusa non so come comportarmi con te questo vale se è una persona del ritorno ma anche se è una persona nuova se stai aspettando questa persona sta dicendo sono confuso sono ancora sono insicuro o insicura ovviamente e non so come comportarmi se è una persona nuova anche per quello non sa come comportarsi si sente insicura perché non ti conosce poi dice non ho capito subito o non capirò subito se non ti ha ancora conosciuto chi sei e all'inizio non mi fidavo quindi questa persona all'inizio sarà un po' sulla difensiva abbiamo visto che è confusa e insicura come persona e non sa come comportarsi se è una persona del tuo passato dice non ho capito subito e non mi fidavo prima quindi può essere che adesso invece l'abbia capito ho bisogno di tempo dice ma ho voglia di baciarti anche per voi come nella prima variante qua questo bacio sa da fare non mi sono sentito all'altoaltezza la persona del passato dice che non si è sentita all'altoaltezza vorrebbe un'altra possibilità con te vedete però non si è sentita all'altoaltezza ha tanto desiderio di baciarti se è una persona nuova sappiate che vuole una possibilità con voi ma non si sente alla vostra altezza e ha bisogno di tempo anche questa persona per capire come comportarsi perché non si fida è una persona insicura che ha paura di fidarsi ok bene adesso vediamo un po' questo filo rosso del destino che vi unisce se ci può dare qualche indizio qualche indicazione su questo legame che situazione se è una persona del tuo passato che situazione c'è o ci sarà nel prossimo futuro visto che stiamo vedendo questa bussola che ti sta accompagnando ad incontrare questa persona no o se è una persona nuova andiamo a vedere cosa è successo perché vi state incontrando perché cosa vi lega vediamo un po' allora cosa vi lega qui ah ecco le ferite adesso vedendo questo mi è venuto in mente l'abbandono qui c'è una ferita dell'abbandono potreste essere state abbandonate voi o voi aver abbandonato quest'anima se è una storia di una persona che state aspettando un ritorno potrebbe essere che vi siete che vi siete sentiti abbandonati e adesso la giustizia karmica sta intervenendo perché questo è proprio un filo rosso del destino siete destinati a stare insieme c'è una speranza una luce che quest'anima che magari ti ha abbandonato adesso sta nutriendo di poter sistemare le cose con te ok se è una persona nuova potrebbe essere una persona che è stata abbandonata perché ha la ferita dell'abbandono come ce l'hai tu come ferite dell'anima e la giustizia karmica la sta portando a te perché avete bisogno di aiutarvi perché queste anime adesso vediamo vediamo subito anzi che tipo di legame animico avete voi con questa anima perché mi viene subito che per chi deve incontrare questa persona nuova è volata l'anima gemella ma io voglio mischiarle per me questa è un'anima proprio che viene per aiutarti e tu aiutare lei nella vostra evoluzione spirituale e per curare queste ferite che avete entrambi anima gemella me lo confermano vediamone un'altra e anime compagne ecco nella prima variante c'erano fiamme e anime compagne qui anime gemelle e anime compagne ma lo sentivo che erano più anime gemelle qui come se dovete incontrare un'anima che vi aiuterà a guarire queste ferite che o vi speccherete con quest'anima o vi siete specchiati se già l'avete conosciuta oppure servirà per curare ferite dell'anima che sono profonde e queste persone magari te le solleciterà o te le specchierà proprio perché solo vedendole tu potrai iniziare la tua guarigione o l'hai già iniziata per poter evolvere e lo stesso farà a specchio con te quell'anima vediamo un po' ah no questi sono gli amori che tipo di amore oh wow è volato amore passionale amore ritrovato allora questo vale sia che è un ritorno è un amore ritrovato ossia che è un ritorno di un'altra vita magari non vi siete mai visti ma vi state per rincontrare anche per voi l'amore clandestino per qualcuno qua vuol dire che c'è una terza energia karmica è l'amore geloso qui c'è anche della gelosia sia che l'avete già conosciuta questa persona ed è un ritorno sia che è una persona nuova sarà gelosa questa persona di te amore clandestino mi può far pensare che potrebbe essere qualcuno che ha una relazione a tre ok magari sapete già che l'altra persona è impegnata oppure siete voi impegnate o forse voi eravate la persona ufficiale questa persona però no per me qua no voi non siete la persona ufficiale se siete la persona ufficiale questa non è la vostra variante andate a ascoltare magari la prima perché per me qua non c'è la persona ufficiale vediamo le ferite anche per voi dipendenza affettiva tradimento infatti qua per me c'è stato un tradimento se siete ecco allora se siete state tradite eravate l'ufficiale questa persona ti ha tradito per un amore clandestino ma adesso vi siete ecco così sì così mi torna allora vi siete ritrovati no potresti anche essere stata tradita perché questa persona ti ha tradito con qualcun altro ferendo tradendo anche la tua fiducia qui ci vuole fiducia e ragazzi e ragazze un'altra cosa qua amore c'era anche sì l'amore clandestino mi viene da dire così per qualcuno vi siete sentiti anche rifiutati ma cosa dovete imparare voi vedere cosa dovete imparare da questa da questo tradimento vabbè a parte avere fiducia ok anche voi mi sa che siete stati abbandonati sì vabbè il perdono perdono sempre ok era il perdono allora voglio vedere perché secondo me qua c'è una terza energia devo capire siccome c'è questo amore clandestino ma c'era anche l'amore ritrovato qui per me potreste essere ci sono due accezioni all'inizio pensavo fosse solo una invece no qua potrebbe esserci stato sia tu essere la terza energia quindi l'amore clandestino l'hai vissuto tu con questa persona e poi vi siete lasciati ma vi siete poi ritrovati oppure tu essere stata tradita per qualcun altro con qualcun altro dalla tua persona speciale se questo è un ritorno se è un amore nuovo ragazzi e ragazze potrebbe essere un amore che all'inizio non verrà dichiarato e questo era successo anche nella prima variante perché l'amore clandestino mi è uscito anche di là perché magari questa persona non vuole subito esporsi davanti a tutti ma ci sta non è che uno subito esce con una persona e si fidanzano magari uno vuole prima conoscersi se è una persona nuova però sentirete questo senso di avere perché è un amore ritrovato un ritorno di un amore che magari non vi siete mai visti in questa vita ma in realtà è un ritorno di un amore di un'altra vita per cui ritrovare quella connessione che sentiamo dentro noi non riusciamo a dare una spiegazione o un nome perché quando vi vedrete scatterà quel proprio riconoscersi mi viene da dire per voi vediamo un po' qualche parolina chiave per dare un indizio ai ragazzi e alle ragazze della seconda variante su questa persona anima che tornerà da loro o verrà da loro se non l'avete ancora conosciuta maschera potrebbe essere una persona che ha indossato una maschera o indosserà una maschera non dichiarerà subito i suoi sentimenti qua per qualcuno qui mi esce parola single potrebbe essere qualcuno che è single ok o che magari nasconde dicendo che è single magari nasconde un'altra persona o l'ha nascosta in passato se è un ritorno magari non ti ha detto che c'era qualcun altro non eravate solo voi se invece è single o magari doveva tornare single qui le parole chiave sono single e maschera quindi qualcuno che ha ingannato che ha portato una maschera è single qualcuno che è single o che doveva tornare single queste sono le parole chiave poi vediamo ancora intervento divino ovviamente abbiamo detto questo è un legame del destino filo rosso e abbiamo detto qua ci sarà l'intervento divino per forza perché è destinato questo incontro ad esserci questa riunione qua visita inaspettata allora questa persona se è una persona del tuo passato ti farà una visita inaspettata tu non te l'aspetti questa persona ti piomba davanti mi viene da dire troppe mischiamo bene prendiamo sotto amore puro e sincero è certo è un amore di anima gemella per forza segni e sincronicità guardate come il destino già ci stanno dicendo certo segni e sincronicità vi legano questa persona queste qui che sono cadute cosa sono speciale legame speciale e qualcuno si impegnerà con te allora cosa posso dirvi di questa persona che sia un ritorno o che sia una nuova conoscenza in questo piano terreno però come abbiamo detto è il filo rosso del destino quindi è un'anima che comunque tu già conosci perché già c'era stato un amore nel passato in altre vite questa persona sentirà subito un legame unico e speciale con te sentirà guardate qui c'è l'amore vero l'amore puro e sincero questa persona si vuole impegnare con te che sia un ritorno o che sia un nuovo amore questa persona vuole un impegno se è un ritorno ha capito che voi siete qualcosa di unico ha capito che vi ama e vuole abbassare questa maschera per dirtelo ok perché vuole impegnarsi con te allora potrebbe essere che questa persona doveva tornare single o forse era un single che non si voleva impegnare poi ognuno ha la sua storia e vedete voi ragazzi e ragazze però ha indossato una maschera ha detto delle bugie non ha rivelato tutto questa persona mi stanno dicendo oppure se non la conosci ancora ti posso dire che è una persona che non subito svelerà il suo interesse per te perché subito sentirà questo legame questa persona ma non te lo dirà subito ma si vorrà impegnare con te una persona qua mi dicono che qui questa persona scusate questo è l'intervento divino ti farà una visita inaspettata se è un ritorno aspettati che questa persona ti piombi davanti se è un nuovo incontro quando meno te lo aspetti ti troverai davanti questa persona entrambi in questo momento state vivendo segni e sincronicità dell'universo perché l'intervento divino è in atto per la vostra relazione se è un ritorno sappiate che qua sta intervenendo il divino con segni e sincronicità per fare capire sia a voi che all'altro che la vostra unione il vostro incontro è vicino se è un nuovo amore ragazzi e ragazze sappiate che saranno dei segni e delle sincronicità e l'intervento divino a mettervi uno in fronte all'altro con questo incontro inaspettato ok vediamo le emozioni che proverà questa persona quando ti conoscerà se è nuova o le emozioni che proverà la persona che tu stai aspettando come ritorno ovviamente in base adesso alle emozioni capiremo allora stupore ammirazione e meraviglia quando ti vede questa persona per la prima volta questo penserà stupore ammirazione e meraviglia se è una persona del tuo passato sappi che adesso ti pensa con ammirazione e pensa a stupore con stupore amore incondizionato l'abbiamo visto che qui c'è un legame d'anima importante proverete amore incondizionato e questa persona lo proverà per te se è un ritorno ha capito che ti ama l'abbiamo visto già dalle parole chiave me lo stanno confermando con le emozioni ha dei rimpianti questa persona se è un ritorno perché ha capito che ti ama incondizionatamente che è stupita anche di quello che prova e ti ammira ha capito quanto tu sei importante che tu sei una meraviglia se è un nuovo amore sappiate che è una persona che sta vivendo di rimpianti la sua vita e non si aspetta assolutamente di incontrare questo amore questo amore incondizionato che gli cambierà totalmente la prospettiva guardate una persona che nel passato potrebbe avere un'ossessione per te una fissazione proprio continua a pensarti con questa qui se è nuova posso dirti che quando ti vedrà diventerai un chiodo fisso nella testa per questa persona questa persona ancora speciale mi era uscito anche con le parole chiave desiderio ideale ti vede come la donna o l'uomo ideale se è un desiderio per questa persona adesso ho capito che tu sei speciale che ti vuole se è una persona del tuo passato se è nuova quando ti vedrà capirà che tu sei qualcosa di diverso da tutto quello che ha sempre vissuto e visto è una persona gelosia me l'aveva detto anche nelle parole chiave o non mi ricordo dove ah no nelle frasi questa persona prova gelosia per te o proverà gelosia per te una persona che si abbatte facilmente forse pensa di non essere all'altezza di te della situazione mi viene da pensare vediamo ancora voglio vedere che tipo di legame c'è tra queste anime perché si sono incontrate queste due anime vediamo un po' sia che sia un ritorno wow allora sia che sia un ritorno troppe però felicità cambiamento rinascita fedeltà e run ok vediamo sono troppe sul fondo mazzo avevamo le fiamme gemelle e la distruzione allora già mi viene da dire perché vi siete incontrati per distruggere il vostro ego voi e l'altra persona per distruggere il vecchio sé per rinascere perché mi era caduta la rinascita perché qua c'è un legame di anime fiamme gemelle anime gemelle qualcosa di importante qualcosa che serviva al vostro risveglio l'incontro con questa persona serviva al vostro risveglio e alla vostra evoluzione spirituale per rinascere a voi stessi come imperatori e imperatrici di voi stessi proprio eh vediamo un po' qua c'era la maschera guardate sul fondo ho visto la maschera giustizia karmica giustizia karmica che interviene abbiamo visto l'intervento divino nelle parole chiave qui è qualcosa che vuole il cielo questo incontro questo incontro che sia un ritorno che sia un nuovo incontro qui è voluto dal cielo perché guardate ve l'ho detto prima maschera e lezione karmica qui c'è da imparare una lezione karmica abbassare le maschere svelare il vero sé la vostra autenticità voi e l'altra persona basta inganno guardate mi è uscita questa cosa anche nella prima variante proprio è vero che sono due storie destinate ovviamente e cosa dobbiamo imparare noi quando incontriamo la nostra anima a fiamma gemella eh o quando comunque iniziamo un percorso spirituale di nostra evoluzione dobbiamo imparare a essere autentici a togliere le maschere a superare i condizionamenti le paure superare tutto quello che ci hanno insegnato fondamentalmente perché fin da piccoli ci hanno insegnato a indossare maschere a essere quello che gli altri vogliono che noi siamo invece noi dobbiamo essere quello che vogliamo noi dobbiamo essere chi siamo davvero e qua la lezione karmica era da apprendere abbassare le maschere la giustizia karmica vi ha fatto conoscere questa persona vi ha fatto incontrare con quest'anima che è venuta da un'altra vita per voi per aiutarvi a ritrovare voi stessi e la stessa cosa avete fatto voi per quest'anima potreste avere comportamenti infantili averli avuti entrambi i comportamenti infantili qua e qua qualcuno ha abbandonato l'altro se è una storia di ritorno vi posso dire se è il passato potrebbe essere che in una vita passata qualcuno ha abbandonato l'altro per questo che vi state ritrovando per portare giustizia a quella storia è questione di tempo qua c'è la divina femminile il risveglio guardate il risveglio la pace la tranquillità la distruzione del sé e l'unità l'equilibrio le promesse il patto allora ragazzi e ragazze qua posso dirvi che c'è un patto d'anima importante un patto di unione qui c'è il risveglio in atto come vi stavo dicendo prima mi era arrivato fortissimo voi vi siete incontrati anche per superare no per guarire le ferite come dell'abbandono guarire le ferite e imparare ad abbassare le maschere togliere le maschere far vedere la propria autenticità ferire guarda il ferire scusatemi guarire la ferita del tradimento vedete tradimento dolore maschera guarire le ferite mi viene da dire guarire le ferite trovare l'equilibrio tra mente corpo e spirito siete nel risveglio sia voi che l'altra anima voi siete la divina femminile o il divino giratela c'è un patto d'anima vi siete incontrati perché? perché era un patto perché l'avevate deciso prima di scendere in questo piano terreno e perché vi siete incontrati? guardate per camminare insieme la giustizia karmica la bussola voi dovete trovare la vostra strada con questa persona state trovando la vostra strada per tornare a camminare insieme come è destino che sia voglio ancora vedere allora il lui perché abbiamo visto la divina adesso voglio vedere il lui maschile qua se c'è un lui cosa doveva capire da questo incontro cosa doveva fare da questo incontro insieme a te perché abbiamo visto che entrambi dovete imparare la vostra autenticità il vostro valore togliere le maschere perché anche quell'altra persona le ha indossate l'abbiamo visto nelle parole chiave che ci ha detto che quella persona ha indossato maschere questa persona doveva purificare le sue energie questa persona guardate una persona molto che una persona anche aggressiva quando si arrabbia una persona sì che cade in vibrazione bassa tossica mi viene da dire e voi dovevate aiutarla voi dovevate aiutarla a guarire e voi siete state anche un pericolo per questa persona vi ha visto come un pericolo no qualcosa che minava magari la sua la sua zona comfort mi viene da dire vediamo un po' siete destinati i segreti questa persona deve tirar fuori delle cose che non vi ha detto nutre speranza verso di voi se è una persona è passata guardate ancora i segreti la maschera entrambi è uscita qui però lui qua non mi esce lui mi esce sempre la lei lui si nasconde anche qua sentimenti nascosti spiare lustra direzione allora perché vi ha incontrato questa persona perché doveva doveva accettare il suo destino è come se è scappata questa persona dal suo destino doveva purificare le sue energie sciogliere un po' di rabbia segreti abbassare la maschera è una persona che ha tenuto sempre nascosti anche le sue emozioni mi viene da dire qua sì perché qua c'è i sentimenti nascosti si è un fondo mazzo una persona che fa fatica aprire le emozioni ma voi siete stati come una luce guardate voi siete una luce per quest'anima la speranza e l'azzeramento di tutte le cose guardate purificare universo maschera così il litigio qua non è solo il litigare con voi è anche i conflitti interiori che può avere questa persona perché io stavo chiedendo di questa persona tirare fuori quello che è nascosto e fare luce la chiarezza per me questa persona perché vi ha conosciuto o perché ti conoscerà perché tu l'aiuterai sarai la luce sarai il suo faro la porterai verso la sua rinascita verso verso il suo destino no pura come si può dire sì purificare le sue energie le sue energie e la rinascita mi viene da dire di quest'anima voglio vedere una cosa perché ti ha conosciuto ancora cosa gli porterai a questa persona o perché la o perché la conoscerai non visto che anche tu avrai questa rinascita grazie a questa persona eh o ce l'hai già avuta guardate perché ti ha conosciuto risveglio spirituale 11 11 manifestare chi si è davvero e manifestare tra di voi il vostro incontro l'anima gemella sentimenti nascosti nel risveglio l'avete portata a superare le sue difficoltà a dire chi è davvero ad accettare chi è davvero a superare dei traumi a chiudere dei cicli questo siete stati voi per questa persona e al perdono a essere perdonata o a perdonarsi mi viene da dire perché questa persona si deve anche perdonare per qualcosa i suoi segreti quella cosa che tiene dentro capire il suo valore perché voi forse adesso qua mi viene che tanti l'hanno capito guardate capire il valore entrambi dovevate capire il vostro valore ma voi state aiutando a capire il vero valore di questa persona perché questa persona prima si dava valore in maniera sbagliata non se lo dava con non dava valore alla sua anima probabilmente dava valore ad altro e a guarire la farita dell'abbandono a perdonarsi e a perdonare chi l'ha abbandonata perché probabilmente anche questa persona si è sentita abbandonata forse in giovane età o forse in altre vite questa persona ha questa ferita profonda dentro di sé e voi siete arrivati per fargli iniziare il risveglio spirituale superare un trauma imparare a darsi il giusto valore per quello che conta perché siete la sua anima gemella l'avete aiutata o la state aiutando a chiudere dei cicli a rivelare il suo vero sé i suoi sentimenti nascosti a tirare fuori la sua profondità e a superare e guarire le sue ferite è una questione di tempo prima che tutto accada vediamo un po' questa questione di tempo dove porterà è volata universo chiarezza segreti bellissimo al destino al vostro destino sulla vostra strada a fare chiarezza a svelare i segreti nascosti guardate qua ci sarà uno shock qua ci potrebbe essere una terza energia anche per voi cosa porterà questa chiusura a questione di tempo a qualcosa di improvviso se c'era un partner carmico un'altra energia a chiudere ci sarà del dolore ma qua c'è anche la fiamma gemella io devo capire se voi siete il carmico o la fiamma gemella perché voi mi siete uscite come anime gemelle e fiamme e anime compagni qua vediamo un po' che cosa siete questo partner carmico un dolore causato qui per me il tradimento e l'abbandono qui ci siete secondo me un po' che mi ascoltate un po' potreste essere in una relazione carmica con questa persona e qualcuno essere in una relazione di fiamma per cui le storie poi si dividono per cui io voglio capire questo dolore causato da quella scelta sbagliata che potrebbe avere fatto o per un verso o per l'altro ancora allora ragazzi e ragazze qui questa persona sta tornando sì ma deve abbassare le maschere potrebbe esserci qua un matrimonio una convivenza qualcosa con una dipendenza affettiva mi viene da dire sì allora qua per me la situazione è questa questa persona sta soffrendo per qualcosa che deve succedere dei segreti che verranno alla luce questa persona soffrirà avrà come una botta e troverà voi ad aiutarla per me perché qui c'è un legame un legame di anima fiamma gemella questa persona sta tornando nella vostra vita ma prima deve abbassare le maschere e probabilmente chiudere un'altra relazione con cui ha una dipendenza affettiva e questa dipendenza affettiva deve guarirla guardate chiudere un ciclo voi l'abbiamo visto anche sotto sì qua il segreto io voglio vedere questa questione di tempo è segreti no che cos'erano questo questa persona deve chiudere un ciclo di dolore molto doloroso con qualcuno con cui ha una dipendenza affettiva per potersi liberare veramente dai suoi condizionamenti ancora me lo dicono shock mi è volato ancora qualcosa succederà all'improvviso qua sta succedendo qualcosa anche nella prima variante mi sembra che c'era un qualcosa che succede all'improvviso le energie sono queste stiamo canalizzando queste energie di movimento molto molto forti divina femminile ancora maschera sul fondo guardate qualcosa sta per succedere qualcosa sta per essere svelato mi viene da dire qualcosa sta per essere svelato e succederà all'improvviso si abbassano le maschere qua ragazzi chiusura del ciclo cambiamento bello chiusura dei cicli cambiamenti distruzione guardate e fiamma gemella qua sta per succedere qualcosa di grande nelle vostre situazioni e anche per me su quella persona se qualcuno che vi aspetta un ritorno qua sta per succedere qualcosa anche nella vita di quella persona deve succedere qualcosa che viene alla luce qualcosa che cambierà tutto mi viene da dire vediamo invece per chi guardate mi è volata ve la faccio vedere lo stesso stavo dicendo per chi sta aspettando un amore che non si sa se è un ritorno o un nuovo amore vediamo se è un nuovo amore che cos'è amore reciproco un grande amore un'anima gemella se siete in una relazione carmica siete voi che state chiudendo qualcosa di pesante sappiate che vi sta arrivando avete visto il nuovo amore l'amore vero della vostra vita potrebbe essere che qualcuno anche ha pensato che l'amore che aveva appena vissuto era un amore di anima gemella invece probabilmente era un karma molto pesante che doveva risvegliarti farti partire questo lavoro su te stessa su te stesso di evoluzione spirituale per in realtà incontrare davvero chi è destinato a te che ancora è in attesa che tu faccia questo salto di riuscire a chiudere quel ciclo carmico di dolore per poter andare veramente nella strada giusta per te sul tuo cammino con la tua bussola che ce l'hai nella tua anima la tua anima ce l'ha questa bussola e ti sta esattamente portando dove sei destinato a stare o dove sei destinato a stare ancora la maschera sul fondo guardate maschera e messaggi mamma mia ragazzi sta maschera oggi è incredibile risveglio spirituale ancora qua c'è veramente qualcosa anche perché qui stiamo dicendo per chi incontrerà un nuovo amore benissimo risveglio spirituale amore reciproco coi cigni l'abbiamo visto è proprio l'amore della tua vita quello che incontrerai dopo un grande dolore che hai vissuto con qualcun altro mi viene da dire ancora risveglio ragazzi speranza tu sarai la sua speranza e la sua luce e quest'anima lo sarà per te supererete insieme delle difficoltà vediamo un po' ancora si vi aiuterete sarà anche un po' difficoltoso all'inizio fidarsi qua come se si qualcuno frena un pochino questo chiamiamo risveglio ma non è risveglio siete già nel risveglio qui questo cambiamento avete paura del cambiamento potreste sì perché dovevate anche voi apprendere una lezione karmica forse vi fa paura questo cambiamento forse avevate delle convinzioni state capendo che non è come pensavate il dolore e l'amore reciproco avete sofferto non credete più a questo amore reciproco perché qui c'è un patto c'è un patto d'anima me lo ribadiscono anche per chi conoscerà questa persona nuova non solo per chi già sta aspettando un ritorno dove mi è già uscito il patto d'anima mi sta uscendo anche sul nuovo incontro lasciare andare la paura e affidarsi all'intuito tu lo sai che la persona giusta non è quella con cui devi chiudere mi dispiace ragazze però mi sta uscendo così per questa variante tu lo sai devi lasciare andare qualcuno perché qua deve arrivare è in attesa la vera persona destinata a te la vera persona il tuo vero filo rosso mi viene da dire seconda variante la giustizia karmica interviene ed è intervenuta qui è come se tu hai avuto a che fare con un narcisista e l'hai preso come la tua fiamma gemella per farti capire ok ma in realtà era un karmico perché doveva insegnarti delle cose questo vale solo per qualcuno ragazzi però io lo devo dire è così qua c'era da fare una purificazione perché perché tu devi andare sulla tua giusta guardate la giusta direzione la giusta direzione giustizia karmica qui c'è un patto con un'anima che sta aspettando te mi viene da dire te che ascolti perché tu anche dovevi apprendere una lezione ma sei in difficoltà ad accettarla questa cosa fammi capire ancora guardate sei in difficoltà sul cambiamento per qualcuno questo è un messaggio un messaggio proprio per qualcuno in particolare se non ti risuona vai a ascoltarti la prima variante perché può essere che non sia per te io lo dico perché qua c'è qualcuno che è in un rapporto di fiamma e sa che l'altro sta per distruggere sta facendo il botto con la sua chiusura del karma che sia un rapporto karmico che sia una situazione ma qui qualcuno invece mi viene da dire che deve incontrare una nuova persona destinata e sta frenando questa cosa perché si è messo in testa che già l'ha incontrata la sua metà d'anima ma non è così non è così andiamo un po' guardate me lo stanno ribadendo ragazzi andare oltre devi andare oltre se tu non fai questo cambiamento questa persona questo divino maschile che sta aspettando te che sei la divina femminile non può arrivare tu stai scappando da questo incontro runner me lo danno sempre su di te runner quando io chiedo per il nuovo amore siccome sono due accezioni per chi sta aspettando un nuovo amore o chi comunque deve incontrare questo nuovo amore è come se si sta frenando è come se si sta frenando perché ti stai frenando vediamo un attimo adesso io adesso sono mi sono impuntata devo capire meglio qua perché ti sei perché ti stai frenando a conoscerla cioè chi credi che sia quello con cui stai male io voglio capire tu credi che sia la tua anima fiamma gemella quello per cui stai male sì guarda sto male freddezza inverno ma è destino che stiamo insieme no non è così non è così e sei tu la divina femminile qua se sei maschio girala perché io questa carta rappresenta te che ascolti per me allora tu che ascolti stai male c'è freddezza cioè tu stai male ma stai convinta che ho convinto che sia il destino quella persona loro mi stanno dicendo che non è guardate allora in questo gruppo ci sono due eccezioni molto molto forti una siete fiamme gemelle lo sapete l'altra persona sta distruggendo qualcosa e sta tornando da voi avete una fortissima connessione la sentite questa cosa dentro di voi per l'altro gruppo ragazzi e ragazze credete di aver trovato la vostra anima o fiamma gemella non lo so ma in realtà questa questa anima gemella vostra è in attesa è in attesa che voi prendiate la giusta direzione la giustizia karmica qua sta intervenendo perché c'è l'amore reciproco ci deve essere l'ascensione di questa coppia avete un patto d'anima ma non lo state vedendo guardate non lo state vedendo perché avete ancora dovete andare oltre le maschere è come se se vi siete impuntati sì qua c'è qualcuno che deve chiudere un ciclo molto doloroso e fa fatica a lasciare andare un ex o una relazione perché pensa che che non la deve lasciare andare ma invece in realtà non è quella del tuo destino qua dovete essere voi ovviamente a capire qual è la vostra situazione io posso darvi degli spunti e poi dovete essere voi ragazzi ragazze la felicità ti aspetta ma prima devi chiudere guardate segreti pazienza dubbio allora la felicità sta arrivando se siete fiamme gemelle vi posso dire che dopo un litigio la felicità arriverà scoprirete delle cose ci vorrà ancora un po' di tempo qua c'è il dubbio perché non vi fidate ecco se siete fiamme non vi fidate pensate che boh ok in realtà sta tornando da voi questa persona si superano le cose sarà determinata a tornare da te è solo una pausa ok perché tu sei il suo arcobaleno bene quindi questo lettigio questo blocco si supererà perché perché voi siete la felicità uno dell'altro ok ma devono uscire delle segreti che voi ancora non conoscete se invece qui c'è un rapporto di carmico che deve essere chiuso ah e avrete anche guardate sui segreti mi è uscita la rivelazione e la decisione voi non conoscete qualcosa che questa persona sta decidendo di fare non lo sapete ma vi arriverà questa notizia è in attesa di qualcosa questa persona qua una decisione potrebbe essere anche qualcosa legale mi viene da dire per qualcuno ok se invece non siete in un legame d'anima o di fiamma gemella ma in un legame carmico ma credete che quella persona sia la vostra anima fiamma gemella adesso facciamo la domanda specifica cosa deve succedere tra voi perché voi avete avete qualcuno che vi sta aspettando qui ci vuole pazienza guardate distacco emotivo per incontrare la vostra fiamma gemella mi dicono un'opportunità dovete avere ma dovete purificarvi dovete credere dovete abbandonare i pesi per andare verso la strada giusta che la vostra strada giusta qual è vediamo qual è la vostra strada giusta lasciare andare la paura a investire su di voi e voi lo sapete in fondo siete indecise l'evoluzione spirituale dove vi porterà a fare delle scelte sempre voi siete voi allora ragazzi e ragazze io dico ragazze perché esce la divina femminile ma potreste essere anche ragazzi qua per qualcuno dovete lasciare andare dei pesi purificare le vostre energie e dovete voi crearvi l'opportunità ci vuole del tempo ma qualcuno in attesa di incontrarvi qualcuno che è destinato a voi come vostra anima o fiamma gemella ok ma voi non state vedendo perché è come se state guardando qualcun altro come se fosse la vostra anima gemella ok vediamo pianificare il perdono io adesso voglio capire qua allora perché qua ci sono due storie due storie cioè come se siamo in questo gruppo sia guardate ancora l'inganno hanno anche la maschera ancora l'inganno vi siete autoingannati alcuni allora qua ci sono sia fiamme che anime gemelle sì la prima accezione quindi sappiate che quello che voi state aspettando succederà ci sarà un ritorno ma quella persona prima deve fare qualcos'altro uno shock soffrirà tanto perché deve chiudere qualcosa o con qualcuno o in una situazione dove ha delle dipendenze ok e poi verrà da voi dei segreti che si devono svelare ma se invece guardate tagliare qualcosa ve lo stavo dicendo per poi avere la comunicazione emotiva con voi se invece questa persona quest'anima non è destinata a voi ma voi credete che lo sia vediamo cosa succederà perché per me voi c'è una parte di voi che invece deve conoscere un'anima gemella o in fiamma gemella che è in attesa che voi facciate questo salto vediamo lezione karmica dovete imparare questa lezione karmica per avere il successo dovete rischiare dovete buttarvi mi stanno dicendo dovete buttarvi ragazze o ragazzi c'è qualcosa che voi state frenando non so perché vi siete bloccati come se non avete il coraggio di andare oltre mi viene da dire l'opportunità ve la create voi da soli vabbè qua niente è così vediamo un attimino con i tarocchi questa cosa anzi prima voglio vedere qua questo legame che sta per arrivare nella vostra vita o sta tornando nella vostra vita cosa ci vogliono dire questi oracoli per voi scambiarsi i doni guardate ancora le maschere lasciare tutto ciò che brilla e tutti i condizionamenti anche le cose che magari la materialità quello che noi crediamo che sia giusto mi viene da dire qua c'è l'energia maschile allora questione di tempo qui c'è una sinfonia incompiuta qualcuno lascerà le maschere verrà da voi è questione di tempo perché ha capito chi siete voi per lei siete casa qualcun altro avrà da fare quel passaggio lasciare andare quello che non va bene perché c'è qualcuno che sta aspettando questo incontro che è destinato ma è fermo c'è questione di tempo è la vostra anima gemella dovete manifestare quello che desiderate veramente qua c'è un legame di cuore d'anima che sia un ritorno che sia un nuovo amore l'anima che vi sta aspettando è proprio la vostra metà eh fatemi capire ancora per i ragazzi e le ragazze che stanno ascoltando vi potete dare un messaggio sulla persona che devono guardate qualcuno vi spia qualcuno che ha fatto degli errori qualcuno che vuole portare giustizia alla vostra situazione qualcuno che sente tanta sintonia con voi magari c'è stata un'intromissione di qualcun altro ma sente l'unione sacra che ha per voi la sente qualcuno che potrebbe essersi anche arrabbiato magari perché voi non gli date più attenzioni mi viene da dire ma è innamorata di voi questa persona e tornerà da voi eh ragazzi e ragazze questa persona sta tornando nella vostra vita se è un ritorno ve lo posso dire se è una persona nuova sappiate che sta sistemando delle cose della sua vita questa persona forse deve lasciare un ex se è una persona nuova e avrà delle buone intenzioni con voi perché gli piacete molto o gli piacerete molto però ci vuole del tempo qui eh abbiamo visto che ci vuole del tempo ma qualcosa siccome è giustizia divina che la porterà a voi questa persona succederà vediamo per chi aspetta una persona nuova cosa potrebbe succedere troppe cosa potrebbe succedere per chi aspetta una persona nuova qualcosa di improvviso ancora mi dicono romanticismo una proposta una proposta potrebbe succedere per qualcuno anche in un locale magari pub vediamo un po' per chi aspetta una persona nuova se mi danno riconoscersi voglio vedere una cosa bar e ristorante ve l'ho detto ho visto un'immagine per questo volevo prenderla vi riconoscerete al primo sguardo ho visto un'immagine di voi e tra l'altro per qualcuno posso dire che cercherà se vi ha già visto di farsi trovare nei posti dove vi ha visto ho visto un'immagine bellissimo ci sarà questo incontro wow nel bar ristorante proprio me l'hanno fatto vedere carini ok vediamo un po' anche per voi l'energia di questa persona quando vi vedrà per la prima volta intanto avrà vabbè volata questa persona deve avere una trasformazione vediamo oh mamma quando vi vedrà per la prima volta l'energia re di coppe bellissimo e dieci di coppe riconoscimento il sentirsi a casa questa persona cambierà ci sarà un cambiamento la stravolgerete quando vi vedrà per la prima volta questa persona se è un ritorno vi posso dire che è cambiata sta cambiando questa persona perché ha capito che vi ama e che voi siete casa questo per chi invece aspetta questo primo incontro quando vi vedrà vi guarderà negli occhi si sentirà a casa perché perché voi siete la regina di coppe l'amore vi riconoscerà oh mamma mi stanno volando tutte c'è bestiale sta energia che si sente aspettate che adesso mi sono volate tutte per terra mamma mia quindi vediamo un pochino allora adesso vediamo vi riconoscerà come regina di coppe come l'amore cosa farà questa persona per voi cosa farà questa persona per voi o cosa succederà con voi ancora re di coppe un'altra volta regina di pontacoli allora questa persona vorrà che voi siate la sua persona ufficiale vorrà pianificherà qualcosa guardate vuole comunicarvi che la regina di coppe vi ama questa persona vorrà voi nella sua vita se aveva da chiudere qualcun altro qui ci sarà una guarigione e vorrà te nella sua vita questa persona perché tu gli piaci te lo vuole dire proprio te lo dirà secondo me te lo dirà anche abbastanza velocemente questa persona quando ti incontrerà sei una persona nuova se invece è una persona del tuo passato ti posso dire che se doveva sistemare una situazione qua c'è una guarigione in corso perché questa persona secondo me vediamo se lo dirà ma a me mi viene che dirà quella persona che è finita perché ama qualcun altro guardate chiuderà il ciclo con quella persona perché sente la connessione con te sì sì è così chiuderà il ciclo con quell'altra se c'è un'altra energia perché vuole stare col suo sei di coppe che è la sua anima gemella che sei tu sei la sua anima gemella vediamo prossimi eventi che potrebbero accadere per voi ragazzi e ragazze della seconda variante spero che nessuno ci sia rimasto male perché purtroppo c'è qualcuno qua che ci sarà rimasto male ma cosa faccio devo dire quello che vedo vediamo invece cosa succederà di bello nei prossimi eventi per voi una riconciliazione per qualcuno di voi un inizio di qualcosa di nuovo per qualcun altro l'abbiamo visto che sono sia nuovo che ritorni l'offerta di pace per qualcuno e un viaggio uno spostamento per qualcun altro qua qualcuno potrebbe incontrare questa persona anche mi è uscita anche nella prima variante perché siccome qualcuno di voi che ha visto questa variante ha visto anche la prima perché c'è questo viaggio spostamento è arrivato qualcosa tornerà a te per qualcuno ci sarà una firma importante potrebbe essere anche che questa persona dovesse magari firmare una separazione prima di tornare da te e vuole fare le cose bene vuole fare le cose per bene vuole portarti anche rispetto mi viene da dire per qualcuno qua vediamo anche per voi qualche segno zodiacale che potrebbe essere del vostro segno o il vostro ascendente o della persona del vostro cuore acquario acquario sagittario capricorno leone toro ariete e cancro qualche numerino qualche numerino allora 8 4 2 19 3 15 21 12 13 23 24 e 18 aspettate che me ne sono volati due per terra e li raccogliamo ok questi erano numerini e adesso vediamo anche per voi hanno le canzoncine a voi non ve li ho date vero o sì non mi ricordo più amore impossibile detti romancino no forse ve li avevo date ti prende ti porto via di vasco e lascia che io sia di neck se non ve li ho date ve li ho date tre adesso ok se no perdonatemi magari sono importanti queste tre per qualcuno di voi qualche letterina e poi scappo perché sono in gritta c'ho da fare ok allora o e l f g d p n ne ho prese troppe 2 4 6 7 8 facciamo così q perché non li ho guardate apposta u e a e x 2 4 6 8 10 11 sì dai va bene così queste sono le letterine ragazzi e ragazze per la vostra variante spero che questo interattivo vi sia piaciuto al di là che forse a qualcuno non piacerà proprio tutto quello che ho detto mi dispiace se vi è piaciuto comunque vi chiedo di mettermi un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale così mi aiutate a crescere e riceverete se cliccate sulla campanella le notifiche di quando io pubblicherò altri interattivi o canalizzazioni del pensiero grazie dell'attenzione e ringrazio tutti i ragazzi che già mi seguono e per voi nuovi che oggi per caso siete passati di qua siccome io penso che il caso non esista spero che abbiate ricevuto il messaggio che doveva arrivarvi grazie ancora a tutti a proprio a tutti dell'attenzione e ci vediamo poi alla prossima ciao ciao